Voi lo vedete che lo sfruttate bene, se non altro per impegno, per voia, per determinazione, per quella cattiveria agonistica che serve per vincere queste partite. Non c'è regala niente nessuno, nemmeno l'ultima in classifica, io vi ho messo in guardia. Non è una passeggiata che andiamo a fare fuori, è una partita di calcio e dobbiamo giocare a calcio. Io non chiedo a chi non lo sa fare i dribbling delle Veronica e le rovesciato, chiedo che ognuno faccia le cose che sa fare, in maniera semplice, in maniera naturale. Nessuno ne chiede di più, io sto convinto che se voi fate il vostro, ognuno di voi, il collettivo vince questa partita. Ed è così che voglio portarlo a casa. Ok? Forza adesso, tutti insieme, qui, qui. Forza, forza, forza. Dai, raga, dai, oh, dai, dai, stai faccio il cazzo. Uno, due, tre, faccio il cazzo! Faccio il cazzo! No? Sì, sì.